In un mondo in cui tutti indossano una maschera di perbenismo o di virtù, vestirne una reale ci rende più liberi. Ciao, io sono Alex, vi do il bentornato sul canale. Se vi interessano i contenuti che propongo, ricordatevi di iscrivervi e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Il libro del quale parliamo oggi è... Opinioni di un clown di Heinrich Woll Pubblicato nel 1963, questo libro si svolge nel 1962 in Germania. Protagonista è Hans, un uomo che ha scelto la vita dell'artista, nello specifico la vita del clown. Un personaggio il cui scopo lavorativo è quello di far ridere la gente, ma un personaggio estremamente triste. All'inizio della storia, infatti, lo troviamo in una situazione veramente misera perché si è infortunato, sta molto male e questo gli impedisce di svolgere il suo lavoro, le richieste sono sempre meno, i profitti sono sempre meno, e come ciliegina sulla torta, per non farci mancare nulla, la moglie lo ha lasciato per risposarsi con un nuovo compagno. Nel punto più basso dell'esistenza, Hans si ferma e ripercorre la propria vita, ripensa ai rapporti difficili con la famiglia, ai rapporti con la società, con la moglie, al loro rapporto, come è nato, come è cresciuto e come è arrivato ad una sua conclusione. Il tutto avviene in un crescendo di furia e di ira con se stesso, perché Hans ricorda di come aveva scelto di seguire questa carriera, andando contro tutto e tutti. Primo fra tutti il padre che gli diceva di non diventare un clown. Lui in ogni caso ha seguito la sua vocazione. E ora, a questo punto in cui si ritrova solo, infortunato e senza prospettive, si domanda se tutto quello che lui ha creato durante la sua vita sta giungendo al fallimento, non alla fine, al fallimento. Cosa resta di lui? Il libro è soprattutto una feroce critica verso lo Stato e la Chiesa, ma anche verso la società composta da quegli ipocriti perbenisti che non sembrano ricordare il passato della loro società e del loro paese. La rabbia che lo muove, la rabbia che esprime a parole e attraverso mille pensieri atroci è quella che lo porterà, oltre a criticare, come vi dicevo ferocemente, la società, sia quella che c'è stata durante la guerra e durante il post-conflitto bellico e nella grande ripresa economica, dicevo, sarà una critica e una rabbia talmente forte che lo porterà a rifiutare anche l'aiuto che gli arriva da parte delle poche, pochissime persone che gli sono rimaste vicine. L'inevitabile, triste, tragico destino che attende questo personaggio alla stazione dei treni con il suo strumento in mano è, come dicevo, l'inevitabile epilogo di questo personaggio che in qualche modo rimane aggrappato a delle illusioni che forse sono l'unica cosa che gli permette di rimanere in vita e l'unica cosa che abbia ancora del valore nella sua vita. Che dire, il personaggio di Hans è carismatico, è potente, è trascende le pagine del libro. Lui in qualche modo ci arriva come l'unico personaggio dotato di memoria. Infatti sembra essere l'unico, man mano che andiamo avanti col libro, l'unico che si ricorda ciò che è stato. L'unico che ricorda che la Germania ha combattuto una guerra terribile, ne è stata, ne è uscita sconfitta ed è l'unico che ricorda anche il mutamento che c'è stato all'interno della società. Nella grande commedia della vita, dove tutti indossano maschere di virtù e di pervenismo, lui risulta essere il personaggio più puro, perché in questo mondo di gente mascherata, lui ne indossa una vera, una vera fatta di trucco, di parrucche e di nasi finti. Nonostante questo però, Hans risulta il personaggio più reale e autentico del libro, mentre tutti quelli da compatire in realtà sono gli altri. Infatti voglio dire, come non empatizzare con una persona che scopre velocemente quella che è la propria vocazione, la propria strada, e decide di percorrerla nonostante il parere contrario di tutte le persone, comprese quelle che gli sono più vicine. Devo dire inoltre che il personaggio di Hans, per concezione, ma soprattutto per il dramma interiore che ci riporta, mi ha ricordato almeno in parte il personaggio del comico dei Watchmen, la serie di fumetti di Alan Moore, che è uscita a metà degli anni Ottanta, se non sbaglio. Il comico, colui che, a differenza di tutti i suoi compagni, aveva compreso quella che è la vera natura dell'essere umano, la vera natura della società, e aveva scelto, con la sua maschera, con i suoi modi, di diventarne una parodia. Per come l'ho vissuta io, Hans, così come il comico, indossando la propria maschera, non fa altro che mostrare all'uomo e alla società quella che è la loro reale natura, quello che è il loro vero essere, dietro l'invisibile maschera a cui si nascondono. Hans non si trucca e non indossa la parrucca per mascherarsi in mezzo alla gente, lui lo fa per restare umano in un mondo in cui tutti quanti stanno perdendo la propria umanità. La vera domanda che quindi dobbiamo porci è, come possiamo restare umani se cancelliamo il nostro passato, se cancelliamo la nostra natura? Come possiamo apprendere dai nostri errori se decidiamo di scordarli, se decidiamo di fare in modo che non siano mai esistiti? Come possiamo restare umani se decidiamo di non ascoltare quello che è il nostro io più profondo? Hans continua a esibirsi, continua ad essere lo specchio per queste persone, ma per loro Hans non è altro che un diversivo, non è altro che l'ennesimo mezzo col quale dimenticare, col quale non pensare e nascondere il rumore delle grida delle loro anime sotto grandi applausi. La narrazione è essenziale, asciutta, c'è un continuo rimbalzare su passato, presente e futuro, tra ricordi del nostro protagonista, scoppi violentissimi di emotività e questo dà un forte ritmo alla storia. Ci sono delle parti che sono state abbastanza complicate da leggere, a tratti anche tediose, ma la storia nel suo insieme ti tiene veramente incollato. Il messaggio che credo ci voglia dare questo clown, il messaggio almeno quello più importante che ho ricevuto io, è stato che... è come se Hans volesse ricordarci di ascoltarci, di rimanere autentici, è come se lui ci guardasse negli occhi e ci stesse dicendo che la maschera che indossa in realtà non è altro che la nostra faccia. Al netto di tutte queste considerazioni, dell'emotività che può avermi suscitato il libro, devo dire che secondo me la storia è davvero affascinante, è forte, è veramente un qualcosa che non può lasciare indifferenti, ma allo stesso tempo credo che non sia per tutti. Ci sono delle parti che possono risultare ostiche e quindi non è una lettura scorrevole, non è la cosa più leggera del mondo. È comunque un invito all'autenticità e ci sono molti libri che portano questo messaggio tra le righe, ma questo in particolare ho trovato che fosse potente e distruttivo come una baionettata in pieno petto, che va benissimo, a me piacciono i libri che arrivano in quel modo, ma appunto è il mio sentire, il mio modo di vivere la lettura, la letteratura, e non è detto che sia così per tutti, quindi attenzione. Detto questo direi che anche oggi siamo arrivati alla fine del video, se il contenuto che ho portato vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un mi piace. Se avete delle considerazioni da fare, dei suggerimenti, qualcosa da contestare rispetto a quello che ho detto, lasciatelo nei commenti e sicuramente vi risponderò. Ciao, buona giornata, al prossimo video!